Ciao a tutti, oggi prepareremo i muffin di pandoro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Ingredienti sono pandoro, farina di tipo 00, latte parzialmente scremato, olio di semi di girasole, cioccolato fondente, zucchero di canna, lievito per dolci, un uovo e vanillina. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del bloccale il pandoro fatto a pezzetti. Chiudiamo con il coperchio del misurino e azioniamo il bimbi per 7 secondi a velocità 5. Aggiungiamo la farina di tipo 00, lo zucchero di canna, la vanillina ed il lievito. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 5. Aggiungiamo il latte, l'uovo e l'olio. ed amalgamare per 50 secondi a velocità 4. Aggiungiamo il cioccolato fondente che abbiamo tritato. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 3. Versiamo il composto nei pirottini per muffin. Una volta riempiti i pirottini adesso andiamo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. I muffin solo cotti lasciamoli intiepidire prima di servire. Muffin di Parnoro, grazie e alla prossima ricetta! Grazie! 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 Grazie!